Daily, il quotidiano multimediale gratuito di Verona, da oggi ancora più ricco e coinvolgente. Scopri nuovi servizi utili della tua città, le pagine dedicate ai nostri cari, lo shopping, il tempo libero. Manda adesso su WhatsApp il tuo nome e cognome al 347 10 58 318. Daily, ogni giorno alle 18 sul tuo cellulare, tablet o PC. Daily, la notizia ogni giorno, sempre con te. Daily, la notizia ogni giorno.